ciao a tutti sono michele tuveri di high west distillery e oggi sono qui per portarvi nello iuta lo iuta è l'anima del wild west e fino dal 1832 ci fu una grandissima produzione di american whisky nello iuta c'erano 37 distillerie di grande fama ma nel 1870 chiusero tutte nel mila del 2006 dei perkins e jane perkins dopo un tour delle distillerie del tennessee e del kentucky si innamorarono del di tutta la produzione di tutto quello che c'è dietro la produzione del whisky e decisero di aprire la loro distilleria e decisero di farlo in quella parte del wild west che ormai era rimasta senza una produzione di whisky e quindi andarono nelle montagne dello iuta sopra sopra salt lake city nella cittadina sciistica di park city park city è molto famosa negli stati uniti per le ciele le piste da sci e per tutto quello che ha a che fare con il wild west e decisero di aprire la distilleria più in alto degli stati uniti quindi siamo a 2600 metri sopra il livello del mare d'inverno nevica tantissimo quindi è molto difficile arrivare alla distilleria però da questo punto se vogliamo di svantaggio riuscirono a creare un whisky di grandissimo successo il primo whisky che fu prodotto fu il double rye che è un blend di rye whisky e diventano famosi per appunto la loro capacità di fare i blend perché la prima distilleria era piccolissima troppo piccola per una produzione esclusiva e quindi diventarono molto bravi a reperire e a miscelare diversi tipi di whisky e farli diventare delle creazioni uniche al giorno d'oggi i west grazie all'investimento di constellation brands dispone di di un numero molto maggiore di di still e anche di un di una linea di imbottigliamento ed è per questo che per la prima volta in 15 anni siamo in grado di offrirlo anche in europa grazie a questa linea di di alambicchi nuovi una quantità sempre maggiore del nostro whisky si trovano in queste bottiglie vi presentiamo double rye il nostro blend di straight rice vi presentiamo american prairie che è il nostro bourbon quasi 100 per cento mais vi presentiamo il rendezvous il fratello maggiore del double rye e il campfire che a parer mio è il più interessante di tutto il range ciao sono michele tuveri brand ambassador di highway distillery e ora degustiamo double rye questo whisky è stato il primo a essere prodotto nella distilleria di high west ed è diventato l'icona della nostra del nostro brand è un whisky molto versatile ed è un blend di due diversi whisky di segale quindi rye uno è un po più giovane intorno i tre anni è uno un po più vecchio di sette anni sono entrambi invecchiati in botti di rovere bruciato quindi carbonizzato a livello 4 che è uno dei livelli più più avanzati diciamo questa carbonizzazione ci permette di ottenere un prodotto che è molto filtrato dal carbone è molto morbido ed è molto bevibile è molto bevibile è morbido al palato però allo stesso tempo grazie a uno dei due whisky che è un po più giovane anche una certa piccantezza una certa speziatura ora degustandolo potete notare immediatamente le tipiche note di caramello e vaniglia date dal rover americano però sul sul fondo del palato iniziamo a sentire anche la cannella iniziamo a sentire il cioccolato il caffè e poi sulle labbra un attimo dopo averlo sorseggiato sentirete proprio una certa piccantezza questo è dato dal segale e dalla segale giovane in particolare questo prodotto ha avuto un grandissimo successo negli stati uniti e il whisky che sta crescendo di più anno dopo anno e questo perché è ottimo bevuto da solo quindi o con con un goccio d'acqua con con del ghiaccio come piace a voi oppure semplicemente liscio però può anche essere utilizzato nei cocktail ciao a tutti sono michele tuveri di high west distillery e ora degusteremo rendezvous rye lo aiuta il posto dove è stato distillato questo grandissimo whisky è il primo stato dove fu fatto il rendezvous il rendezvous era quell'occasione durante la quale i coloni americani si incontravano per scambiare i loro prodotti quindi cacciatori portavano le pelli minatori portavano l'oro l'argento il rame e si incontravano tutti nella prateria e scambiavano i loro beni si dice che il primo rendezvous durò un paio di giorni invece il secondo rendezvous il primo al quale fu portato il whisky durò un paio di settimane perché divenne un grandissimo party nella prateria questo rendezvous è un whisky di segale quindi un rye whisky e a differenza della stragrande maggioranza degli altri rye non è prodotto con 51% di segale e 49% di altri grani tipicamente mais ma è prodotto con quasi il 100% di segale la segale non fermenta da sola quindi c'è bisogno dell'aiuto dell'orzo quindi una piccolo un piccolo starter di orzo fermentato ma qui abbiamo due whisky diversi uno è 85 per cento segale e 15 per cento segale fermentato malto di segale e un altro è il 95 per cento segale e solo il 5 per cento di mal di di malto d'orzo questo ci consente di avere un whisky che è assolutamente molto complesso è particolarmente speziato all'inizio della sua vita ma grande grazie al lungo invecchiamento in botti di rovere carbonizzate vediamo che si è ammorbidito e ha creato dei degli aromi assolutamente morbidi e piacevoli possiamo immediatamente notare degli aromi di peracotta cannella piccoli pezzi di cioccolato botte legno tostato e sul fondo anche un po di mela verde e menta questo è un whisky assolutamente scusate non riesco a trattenermi dal berlo è un whisky assolutamente perfetto per la meditazione per stare davanti a un camino è assolutamente anche per condividerlo con i nostri amici vi consiglio di assaggiarlo prima senza l'aggiunta di niente e poi se vedete che avete bisogno di una di un tocco di leggerezza in più magari aggiungere un paio di gocce d'acqua o un piccolo pezzo di ghiaccio per il ghiaccio vi consiglio di farlo da voi utilizzando acqua di bottiglia e non acqua di rubinetto diciamo che noi ci impegniamo molto nell'utilizzare solo acqua di sorgente e quindi è importante che anche l'acqua che introducete voi sia della della più alta qualità possibile sono michele di iwest distillery e ora parliamo di american prairie bourbon whisky l'american prairie fu creato per supportare la american prairie foundation stiamo creando il più grande parco naturale degli stati uniti che una volta finito sarà grande più dei tre più grandi parchi naturali attualmente esistenti noi doniamo il 10 per cento dei profitti di questo whisky alla fondazione ed è il primo bourbon che produciamo noi siamo specializzati nei rai però quando decidiamo di lanciarci in un progetto cerchiamo di diciamo portarlo all'estremo quindi questo whisky è quasi al cento per cento mais è invecchiato come da disciplinare americano in botti di rovere bianco nuovo tostate in realtà sono carbonizzate all'interno a un livello 4 il livello 4 di carbonizzazione è uno più alti viene anche detto alligator skin perché il carbone all'interno della botte prende l'aspetto delle scaglie della pelle di un alligatore ma perché bruciamo così tanto le nostre botti questa carbonizzazione ci aiuta a creare un filtro naturale all'interno della botte che estrae gli zuccheri presenti nel legno e ci aiuta anche a filtrare alcune impurità del whisky grazie a questo processo e alla qualità fantastica del distillato che utilizziamo abbiamo creato un prodotto morbidissimo assolutamente super bevibile molto dolce nonostante l'assenza di zuccheri aggiunti è molto morbido con un grandissimo finish di toffee caramello una leggera punta di cannella mela cotta e una lievissima speziatura finale vi consiglio assolutamente di provare questo whisky è un grandissimo prodotto per chi si sta giusta facendo al mondo dei whisky americani grazie alla sua grande complessità finish lungo ma morbidezza al palato ciao sono michele tuveri di high waste distillery e oggi parliamo di campfire credo che questo sia uno dei whisky più interessanti sul mercato perché è uno dei primi e forse forse il primo blend di bourbon rai e scotch torbato questo è un blend di esattamente quattro whisky abbiamo due rai 1 85 per cento rai 15 per cento rai maltato un'altra 95 per cento rai e 5 per cento orzo maltato e poi abbiamo il bourbon che circa 75 per cento mais è una piccola quantità di scotch torbato che appunto ci dà quel quel finale affumicato perché unire questi quattro whisky il rai ci dà la speziatura e la complessità il bourbon ci dà la morbidezza e i sapori di vaniglia e caramello e lo scotch torbato ci dà quel finish affumicato appunto questo è un fantastico prodotto da utilizzare come gateway o prodotto ponte per gli amanti del whisky torbato che si vogliono avvicinare ai whisky americani o al contrario se si è un amante dei whisky americani e ci si vuole pian piano avvicinare ai whisky torbati a differenza degli scotch che normalmente sono light body quindi hanno un corpo abbastanza leggero questo è un whisky full body è un whisky naturalmente dolce ovviamente non ci sono zuccheri o additivi aggiunti però abbiamo quel finale affumicato che lo rende assolutamente molto interessante io lo accomuno sempre a un marshmallow che è stato cotto bruciato un po sul sulle fiamme di un di un fuoco in su un prato è assolutamente delizioso bevuto liscio io vi consiglio di assaggiarlo prima senza niente e poi se volete alleggerirlo un po di aggiungere magari una goccia d'acqua un cubetto di ghiaccio fatto con acqua naturale e poi se volete avventurarvi nel mondo cocktail con questo potete preparare un manathan assolutamente unico grazie appunto al finish affumicato